eccoci qui pronti per presentarvi la nostra gita al monte palanzone insieme a leonardo diciamo che noi al monte palanzone siamo stati un po in tutte le stagioni ed è vero che cambiano i colori ma regala sempre un panorama a 360 gradi davvero spettacolare ma facciamoci raccontare direttamente da te leonardo dove ci porterai esattamente con questa gita eccoci qua partiamo dalla porta montana del triangolo ariano la colma di sormano in comune appunto di sormano che è l'ingresso del piano del tivano piano del tivano ricco di leggende e qualcuna ve la racconterò lungo il percorso è un percorso non brevissimo qui si vede l'obelisco che c'è in cima e ci sono un paio di tratti piuttosto ripidi però sicuramente è una gita che vale la fatica che si può fare per effettuarla insomma qui vediamo lungo il percorso quasi arrivati in cima rifugio riella da cui si vede il panorama sul lago ed è un punto di appoggio come diceva beatrice qui ci si va in tutte le stagioni inverno compreso ed inverno una bella polenta calda rifugio riella è un must benissimo svelaci una curiosità che ci racconterai camminando approfitto della camminata per raccontare qualcosa sulle grotte del piano del tivano e vi dico che esploreremo ma con le orecchie senza attrezzatura speleologica una delle più profonde grotte del triangolo ariano che è la grotta pugiel questa carrellata di foto molto belle vi fa capire come è davvero un itinerario molto interessante anche in autunno e anche in inverno ci è capitato di farlo con la neve ed è stato un grande successo benissimo allora per finire ti chiedo cosa vedremo dalla vetta del monte palanzone girando intorno all'obelisco lungo i quattro punti cardinali abbiamo a sud i laghetti briantei come si vede in questa foto poi invece se guardiamo verso est in lontananza alle grigne e più vicina alla valassina con i monti di sera poi se ci giriamo verso ovest il lago di como che scende appunto verso la città di como e verso nord abbiamo le alpi dal monte rosa alle alpi svizzere ottimo direi allora che aspettiamo tutti armati di macchina fotografica o per lo meno di cellulare per immortalare questo fantastico panorama si si tutti pronti per l'assalto al palanzone